Buongiorno da Edo. Prima cosa, se stai ascoltando questo podcast in giro per i tuoi client di podcast che non so quali sono, su Android, mentre stai facendo la doccia, mentre corri, mentre stai facendo il tuo stretching quotidiano, sappi che sul mio canale YouTube ho pubblicato un video in cui parlo di React Server Components, in modo un pochino più approfondito, leggendo un articolo, naturalmente, però facendo anche un po' di commentini. Quindi, insomma, se ti interessa il tema React e scoprire questo nuovo paradigma dei React Server Components, fiondati sul mio canale YouTube e vedi che tra i video, l'ultimo, il colpino di questo, c'è questo videino sui React Server Components. E poi un altro piccolo aggiornamento sulla notizia che abbiamo seguito qualche tempo fa. Vi ricordate di Yuzu e Nintendo? Yuzu era ormai, possiamo dire, un emulatore di Nintendo Switch che Nintendo ha ucciso, ha cancellato. E la compagnia che ha sviluppato Yuzu è stata, insomma, costretta a, tra l'altro, scusarsi, chiudere tutto, chiudere i siti, chiudere Discord, cancellare Yuzu da qualunque parte. Yuzu, peraltro, era un emulatore open source. Ma che succede? Che varie altre persone hanno preso il codice di Yuzu, l'hanno forcato, l'hanno clonato, l'hanno sbattuto in milioni di altri repository, non milioni, però migliaia di altri repository GitHub, che ora Nintendo sta a uno a uno facendo chiudere. In pratica si parla di più di 8000 repo GitHub, 8500 repo contenenti il codice di Yuzu forcato, che Nintendo è andato a chiudere, facendo, credo, per ognuno una richiesta di chiusura a GitHub, quindi, insomma, grande lavoro per il team illegal di Nintendo, ma poi copie e forche di Yuzu stanno spuntando un po' in giro dappertutto. E Nintendo, per ognuna, sta andando a farle chiudere, insomma, sta giocando un po' al gioco della talpa, no, con il martello. Boom, boom, ogni volta che spunta fuori un emulatore di Yuzu, Nintendo va a cercare di colpirlo. Solo che ne spuntano altri, perché naturalmente questo, avendo il codice libero aperto in giro per il web, è difficile che Nintendo riesca a beccarle tutti. Naturalmente può rendere la vita molto difficile agli sviluppatori che cercano di distribuire Yuzu, o codice derivato da Yuzu, però non ce la può fare. Insomma, se volete un po' un riassunto di cosa è successo con Yuzu, credo di poter mettere il link alla puntata di cui ne parliamo da qualche parte. C'entrano un po' le chiavi criptografiche, in realtà, che Nintendo ha sbattuto dentro il codice di Switch e che chi ha creato Yuzu ha infilato in maniera non proprio legale, però, insomma, c'entra anche un dibattito sul fatto che gli emulatori siano o no legali di per sé. Cioè, creare un emulatore di una tecnologia commerciale in vendita, senza però violare il copyright di quella tecnologia, intanto se è possibile farlo e poi, se nel caso fosse possibile farlo, se è legale distribuirlo. Insomma, c'è un dibattito in corso ed è interessante comunque seguirlo. Basta, questa era un po' l'introduzione che volevo fare e ora vi do un po' di notizie di oggi. Oh, allora, oggi lunedì 6 maggio voglio parlarvi di ARC, del browser ARC. Che me ne ho già parlato varie volte in passato. È un browser che io adoro. È un browser che ho usato fin dalle prime beta di ARC per macOS. È un browser che ha un approccio diverso alla navigazione internet. Non tanto alla navigazione, ma proprio al modo di usare i browser, alla UX dei browser. È difficile spiegarlo senza provarlo con mano. Vi consiglio di provarlo perché, insomma, se avete un Mac è facile. Ma da oggi è facile anche se avete Windows. Perché la notizia che vi voglio dare è che ARC, dal primo maggio, è disponibile anche su Windows. Su Windows 11, solo Windows 11. Se avete Windows 10 non si può fare. Se avete Linux neanche non si può fare. Solo Windows. Perché Windows? Perché gli sviluppatori di The Browser Company, che è l'azienda che ha sviluppato ARC, hanno portato il linguaggio Swift su Windows. Swift è il linguaggio creato da Apple ed è utilizzato per creare applicazioni per macOS e per iOS. Ebbene, gli sviluppatori di The Browser Company, appunto, hanno portato Swift su Windows. E grazie a questo porting, sono poi riusciti ad avere la codebase, cioè utilizzare la codebase di ARC per realizzare ARC anche per Windows. Questo è un po' il perché l'hanno fatto. Perché voi dovreste provarlo? Perché, appunto, ripeto, è un approccio diverso. Alcune cose che vi posso dire è che non avete la riga orizzontale delle tab in cima al browser, ma questa roba è sostituita da una sidebar con dentro i tab che decidete di mantenere fissi, quindi di pinnare, più tutti i tab che aprite durante la sessione che state svolgendo, i quali però a fine giornata verranno chiusi cassati. Così ogni volta che iniziate un nuovo giorno il browser vi riparte pulito, se non per i tab che avete appunto pinnato. Ma non si limita a questo. Poi varie operazioni che voi volete fare con ARC le potete fare aprendo una command line, quindi con command T o con ctrl T su Windows, aprite questa finestrella con linea di comando e potete impartire comandi testuali ad ARC per fare varie cose. Insomma, farci un giro vale più di mille descrizioni, quindi il mio consiglio è scaricatevelo, provatevelo, perché secondo me vale la pena. Potrebbe diventare, come è diventato per me, un nuovo modo, ecco, di pensare la navigazione su web. La notizia appunto è che ARC è ora disponibile per Windows, dice un articolo che trovo su ZDNet, dice ARC non è semplicemente un altro browser, si tratta di rendere gli utenti capaci di guardare ai web browser in un modo nuovo, non tanto come un tool, ma come un ambiente, un ambiente calmo, dove puoi tenere le tue cose ben organizzate. E anche questo modo di vederlo. Ah, un'altra cosa, ARC è basato su Chromium, quindi tutto l'internet che funziona con Chrome funzionerà benissimo anche con ARC. Un paio di note finali. Sfortunatamente la versione Windows non include gli Easel e i Boost. E queste sono altre due cose che su Mac sono fighissime. Easel è una pagina, praticamente una canvas vuota, che voi potete aprire nella vostra sidebar, che vi consente di mettere dentro quello che volete, disegnare cose con il mouse, appiccicarci dei post-it, appiccicarci dei link con le preview della pagina. Quindi potete creare proprio delle vostre note, basate sulla navigazione che state facendo, mettendoci pezzi delle pagine che state navigando. È molto figo, molto comodo. Tra l'altro potete anche condividere. E poi c'è Boost, che invece vi serve per modificare l'aspetto di una pagina. Cioè con Boost in pratica potete modificare il CSS, il layout di una pagina, e poi rendere questa modifica permanente o semipermanente. Cioè verrà sempre appiccicata alla pagina che state navigando, così che le modifiche che avete fatto, insomma, rimarranno per sempre sulla pagina. Anche questo è figo. Vi leggo qualche altro dettaglio da The Verge. Salim Abdul Razol, che è un membro dello Swift Core Team e lavora in The Browser Company, appunto, è la persona che ha guidato il team, che poi è riuscito a portare Swift su Windows. Dice a The Verge, sono molto esaltato per questa roba. Insomma, finalmente stiamo vedendo qualcosa che arriva in produzione dopo un lavoro così lungo, ed è veramente fighissimo. È un segno d'amore, dice. E poi dice, la release di Arc su Windows, grazie proprio a Swift, potrebbe incoraggiare altri sviluppatori a seguire un percorso simile. Soprattutto dopo che la Casa Bianca ha chiesto urgentemente agli sviluppatori di utilizzare linguaggi di programmazione Memory Safe, come appunto Swift, invece di C++, che sappiamo invece essere la base di Chrome e Edge. O altre cose che non vi ho detto, nella versione macOS ci sono delle funzionalità AI. Alcuni tra l'altro lavorano in locale, con AI locale, alcuni invece vanno online su OpenAI, comunque combinazioni di OpenAI e altri servizi. Ecco, sono funzionalità che sono bene embeddate dentro Arc, per esempio che fanno l'anteprima di una pagina web, o l'anteprima di un link, quando andate con il mouse sul link, aspettate un po', vi arriva l'anteprima del link. Altre cose come il sommario della pagina su cui state, o la ricerca all'interno della pagina, Powered by AI, in un modo abbastanza furbo. Ecco, insomma, hanno inserito alcune di queste cose, e devo dire che alcune funzionano molto bene. Neanche queste cose sono ancora su Windows, ma tutto il resto, come la gestione degli spaces, dei profili, lo split view appunto, il pixel in picture, molto figo, molto comodo per i video. Ecco, queste robe cose sono tutte disponibili anche su Windows. E, una cosa importante, Arc su Windows, non sembra una app per macOS, portata malamente su Windows, ma proprio si inserisce molto bene all'interno della UI di Windows, perché utilizza WinUI, cioè il framework per creare le UI delle app Windows, e segue il Fluent Design. E tra l'altro potete anche modificare il background, come Arc gestisce il background, passando da Mika, che è un background statico, praticamente in un colore che voi scegliete, oppure Acrylic, che è quella roba che Windows aveva introdotto con Windows Vista, che dà un assetto di background traslucido, come si vede attraverso, insomma, per gli amanti di quella tipologia di UI, però consuma più risorse, non lo so, non mi piace. E poi vi aggiungo che se siete utenti cross-platform, quindi Windows e Mac, come me, per esempio, potete utilizzare Arc Sync, che vi tiene la vostra sidebar sincronizzata, appunto, tra le varie istanze del browser. E non solo, la sincronizzate anche con Arc Search, che è l'app mobile di Arc, che è tutto un altro discorso, che adesso vi voglio fare. Dunque, Arc Search è disponibile solamente per iOS, per adesso, una versione Android arriverà, e anche qua è una nuova concezione di mobile browser. Segue alcuni dei dettami della app desktop di Arc, per esempio, il non avere le tab, e comunque il cancellare le tab di navigazione a fine giornata, anche se comunque mantiene in memoria quelle che vorrete. Ma la cosa veramente rivoluzionaria, ecco, per come Arc intende il web, è la ricerca. Cioè, quando voi aprite Arc Search, che è il nome che credo che poi verrà cambiato in futuro, diventerà soltanto Arc, quello che voi vedete è una pagina bianca, insomma, senza una web page, e una casella di ricerca. In questa casella di ricerca, voi scrivete appunto quello che volete cercare, dopodiché, se cliccate su Browse for me, che è un bottoncino che vi viene fuori, di fianco allo snippet della ricerca, Arc va a fare una ricerchina su un po' di siti, un po' come avviene su Copilot di Microsoft, cioè cerca su un po' di siti, riassume i risultati che trova per voi, e vi costruisce una pagina web, con una testata, con uno slideshow di immagini, poi il titolo della news, insomma, di queste che state cercando, e un elenco di informazioni che rispondono alla vostra domanda. Quindi in pratica di creare proprio questa single page, ecco, per voi, che dovrebbe essere abbastanza accurata, perché si basa su risultati di ricerca aggiornati in tempo reale, non su dati preesistenti in un large language model, tra l'altro vi dà anche un elenco delle fonti. Naturalmente siamo sempre dalle parti delle possibili allucinazioni, sapete che l'attuale stato delle IA generative comunque non è al 100% affidabile, quindi prendete le informazioni contenute in questa pagina sempre con le dovute cautele, però insomma è un paradigma che è davvero affascinante, nel senso che vi dà uno sguardo su un nuovo modo di intendere il rapporto con il web, non più andando a mettere insieme varie informazioni prese da varie link, ma facendo una crasi di tutto grazie all'AI. Questa roba qua, come si potrà sostenere economicamente, sia per Arc, quindi per The Browser Company, che per i siti che producono news, che in questo caso naturalmente non hanno più neanche un manco modo di mettere le proprie caselle, i propri box pubblicitari o di suggerire il sign up, la registrazione, insomma, tutto poi confluisce dentro Arc Search. Ecco, chi pagherà questa infrastruttura agli uni agli altri ancora non si sa. Browser Company non ha divulgato i suoi piani per la monetizzazione, però si pensa a feature a pagamento, quindi una versione premium di Arc, magari alcune di queste feature AI saranno rese appunto disponibili soltanto a pubblico pagante oppure in parte, insomma, non si sa bene ancora, però sicuramente qualcosa dovrà essere fatto, perché tutto questo ben di Dio, ecco, deve essere pagato da qualcuno. Sono diversi anni che Browser Company sviluppa queste feature e non ha ancora monetizzato, quindi bisogna capire un po' cosa fare. Però insomma, per concludere, Arc Browser disponibile su Windows, scaricatelo, perché è una figata, se siete su Mac non c'è scusa, cioè Arc è sicuramente a mani basse il miglior browser per Mac, potrebbe diventarlo anche su Windows, per adesso gli mancano alcune feature, ma siamo sulla buona strada, comunque è super stabile, io lo uso in produzione, insomma, day by day, da di adesso tempo e mi trovo bene, all'inizio crashava un po', adesso invece che siamo alla versione, diciamo, 1.0, siamo messi abbastanza bene, quindi è basato su Chromium, non avete problemi di navigazione. Il consiglio è, provatelo, e provate anche Arc Search su iOS, se siete su iOS, aspettando la versione Android, perché quella lì è veramente una figata. E nella seconda parte di questo podcastone parliamo di Layoff, insomma quella che ormai è una rubrica fissa, praticamente ogni tanto torniamo a guardare chi ha licenziato chi, cosa è successo nel mondo dei licenziamenti, e dobbiamo tornare a parlare di Google, perché sapete che Satya Nadella aveva detto che i licenziamenti in Google non si sarebbero fermati, e infatti ha fatto Layoff, ha lasciato andare, ha tagliato una grossa parte dei team Flutter, Dart e Python. Flutter sapete che è un framework open source per creare applicazioni multi piattaforme, quindi mobile, web e desktop. È basato su Dart, che è un linguaggio di programmazione creato sempre in Google, che è una specie di alternativa a JavaScript. Bene, sia nei team Flutter che nei team Dart ci sono stati grossi tagli, e questo tra l'altro dà un po' di preoccupazioni alle aziende che hanno costruito un business magari proprio sopra Flutter, sopra app create in Flutter, e staremo a vedere. E poi ci sono anche licenziamenti nei team Python, tra l'altro di molte persone che fanno parte anche del core team di Python stesso. Tra l'altro riguardo Flutter, i vari smart display di Google negli ultimi anni avevano cambiato il sistema operativo passando da Android a un nuovo sistema che Google aveva chiamato Fuxia. Vi ricordate di Fuxia? Ecco, anche Fuxia stesso era stato oggetto di Layoff lo scorso anno, e adesso con meno persone su Fuxia, molte meno persone su Fuxia e molte meno persone su Flutter ci si chiede quale sarà il futuro di Fuxia e il futuro degli smart display insomma di Google. Per quanto riguarda Python, Thomas Waters che è uno di quelli che rimangono del team di Python insomma sta cercando di mettere insieme i pezzi e facendo onboarding di nuove figure che vanno a sostituire i senior e i membri del core member che invece sono stati lasciati andare via e quindi dice ha scritto su Mastodon che è un momento particolarmente difficile quando ti alzi una mattina e vedi che tutti quelli che stanno intorno a te inclusi i tuoi manager sono cambiati e sono facce nuove. Sempre parlando di Layoff ma cambiando azienda guardiamo un attimo Tesla perché Tesla non è in una bella situazione. Ora Tesla certo è un'azienda di automotive ma è anche un'azienda tecnologica insomma non si sa bene in quale mercato includono però diciamo che per questo podcast la infiliamo nel mercato tecnologico insomma è un'azienda capitanata come sapete dal grande maestro Elon Musk ebbene Tesla adesso è andato incontro a un nuovo round di Layoff molto pesanti dopo aver tagliato circa il 10% dell'intera forza lavoro ora diversi executive sono andati via e Musk ha appena annunciato che anche Rebecca Tinucci che è senior director che era senior director del charging quindi di piattaforma di ricarica e Daniel Ho che è invece direttore del nuovi prodotti nuovi veicoli nuovi prodotti insomma sono entrambi licenziati e insieme a Tinucci anche l'intero suo team di circa 500 persone che stavano lavorando alla tecnologia sapete dei supercharger Tesla supercharger insomma una riduzione abbastanza pesante su un programma che per Tesla pare essere core quello delle ricariche che peraltro sono fonte di revenue per Tesla quindi insomma una situazione che per Tesla pare essere abbastanza critica i margini di profitto sulle nuove auto sono sempre meno c'è la concorrenza di produttori europei e cinesi che è sempre più forte e insomma non sembra che se la stia passando benissimo aggiungiamo poi che il Cybertruck si sta rivelando un disastro che non sembrano esserci nuove idee all'orizzonte e insomma nel frattempo il CEO appunto Musk ha detto di voler andare voler essere assolutamente hardcore per quanto riguarda i licenziamenti in Tesla e ha detto ai vari manager che devono praticamente licenziare chiunque non passi i test di eccellenza e fiducia e fiducia necessaria non si sa bene che cosa vuole dire in pratica insomma di tagliare quante più teste possibili questo è un po' il messaggio che Musk ha dato all'HR quindi insomma un po' un futuro nebuloso pare per Tesla staremo a guardare staremo qua sulla riva del fiume ad aspettare una batteria al litio che passa allora due link di oggi il primo è fenomenale vi consiglio assolutamente di prendervi dieci minuti oggi per leggerlo si intitola quanto può essere difficile generare un numero primo da 1024 bit è un articolo di un annetto fa ed è il viaggio di questo sviluppatore per scrivere codice Rust che genera appunto un numero primo da 1024 bit in un tempo ragionevole naturalmente e quindi fa vari tentativi inizia da 16 bit poi passa a 64 bit cercando insomma di stare attento alle performance del codice che genera quindi ci sono varie ottimizzazioni varie scoperte matematiche nel come riuscire a trovare un numero primo come riuscire a stabilire se un numero è primo e intanto si parte da come riuscire a trovare un numero random che già o pseudo random che già è complicato però una volta trovato un numero pseudo random spoiler utilizzando insomma dev o random ma poi bisogna stabilire se quel numero è o no primo e una volta fatto un conto è farlo con 16 bit e un conto è farlo con 64 256 e insomma puoi arrivare a 1024 perché 1024? perché siccome le chiavi R6 sono il risultato della moltiplicazione di due numeri primi per ottenere un numero da 2048 bit servono due numeri da 1024 bit quindi bisogna generare questi due numeri e questo è assolutamente un post fighissimo tecnico molto tecnico verso la fine va particolarmente nel tecnico però insomma vi dà un po' di nozioni sulla matematica sulla criptografia e anche su Rust che sono impagabili secondo me questo è un po' prendetelo come consiglio personale oggi dovete leggerlo oppure mettetevelo nei vostri bookmark naturalmente il link vi lascio nella descrizione e leggetevelo perché vi darà proprio vi arricchirà tantissimo e poi se volete arricchire anche il vostro bagaglio degli attrezzi magari volete volete iniziare a esplorare la grafica 3D sui browser io negli ultimi buongiorni vi ho lasciato sempre nei link un po' di ispirazioni di cose create con 3JS e WebGL su web bene se volete un modo per iniziare a creare roba in 3D con 3JS su web ma in maniera diciamo semplificata ecco c'è un framework che vi facilita molto questo viaggio che è Trelte scritto T-H-R-E-L-T-E che è praticamente la crasi tra 3JS e Svelte perché è proprio un framework costruito su Svelte quindi sul framework Svelte.js che poi però vi dà dei componenti che vi espongono funzionalità di 3JS quindi se voi andate sul sito trelt.xyz che non so se è un riferimento a City Hunter ma insomma questo è l'url del sito trovate la documentazione di vari componenti che vi espongono funzionalità di 3JS e quindi è un modo diverso più dichiarativo per ottenere delle immagini insomma delle immagini anche in movimento con 3JS infatti se voi andate sul Getting Started vedete un po' di installazioni e le prime scene vedete che è sufficiente includere due componenti Svelte che sono proprio componenti trelt anzi per avere degli oggetti già visibili a schermo poi dopo potete manipolarli includere altri altri property altri tipi di oggetti insomma altri tipi di componenti dentro la vostra app per vedere modifiche a schermo quindi super super facile super visuale il feedback visivo è utilissimo per imparare qualcosa di nuovo e quindi qua avendo subito un feedback visivo insomma vi da la carica per andare avanti credo e basta questo era un po' trelt vi consiglio di dare un'occhiata io qualche giochetto ce lo faccio perché comunque mi piace l'idea di provare a fare qualcosa di 3d e poterlo fare su browser con un framework javascript che già un po' conosco insomma mi facilita abbastanza quindi vi consiglio anche a voi trelt trovate su trelt.xyz lascio tutto il link nella descrizione del podcastone è finito anche oggi grazie per avermi seguito noi ci vediamo a una prossima puntata speriamo con meno notizie brutte sui layoff e più notizie croccanti invece del mondo dell'IT ma di nuovo insomma vi ringrazio se volete seguire questo podcastino e ci vediamo presto ciao